L'entusiasmo nasce proprio perché il pubblico cambia, nel senso che il teatro c'è niente da fare, nasce nel momento stesso in cui ci troviamo in unità io, che sono da sola, e il pubblico. Io posso arrivare stanca, distrutta, la mattina poi faticoso, i ragazzi possono essere irrequieti, eccetera, eccetera, ma quando poi si crea la magia, che non è magia, è lavoro, cioè il frutto di una serie di lavori fatti, di contatti presi poi con sguardi prima, parole, quando si crea comunque il dialogo, qui ed ora, si rinnova l'energia di ogni nuova comunicazione, quindi per me lo spettacolo è come se fosse fatto adesso, quindi non importa che lo porto da 4 anni, 8 anni, 10 anni, ma vive in quel momento lì. Sui pubblici che cambiano sì, perché intanto io divento più vecchia. Adesso sono in un momento molto felice perché il pubblico dei giovani segue pari passo la crescita di mia figlia, mia figlia adesso sta uscendo dalla quinta superiore, dall'anno prossimo farà l'università e quindi perderò un po' il gancio dagli anni prossimi di una visione, come dire, concreta in tempo reale di come sono i problemi degli adolescenti che fanno le scuole superiori, perché adesso qui ci riferiamo a un pubblico di scuole superiori in particolare, quindi non so, vedrò che cosa succederà. Adesso li vedo e mi sento molto come i miei figli, ci sono stati anni in cui ero più giovane io e quindi avevo un'identità maggiore con il pubblico degli studenti, comunque i giovani di oggi sono più semplici, ma è una virtù, cioè sono più semplici, se tu li approcci con un dialogo semplice, diretto, loro reagiscono, non si chiudono, comunicano, trovo raramente lo sguardo di chi dice ma chi è questa qui, che cosa vuole da me, no no no, entrano in dialogo, quindi non hanno troppo pregiudizio su un ruolo di autorità o di qualcuno che si ponga su un piedistallo, no no, dialogano e devo dire mi piacciono molto, perché un tempo c'erano le lotte giovani e professori e invece sappiamo che sentiamo più di essere sulla stessa barca e sentiamo un'affinità e forse anche perché noi adulti siamo più giovanili, cioè diventiamo più vecchi più tardi con la testa e quindi c'è possibilità di dialogo, lo vedo sempre più fresco.